Musica 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 a 290 i 50 impi 120 120 12 14 14 15 15 16 16 16 Questo lavoro, il Glass Master, non è un lavoro che puoi imparare in scuola, questo è un tradizio di famiglia di famiglia, quindi il lavoro è spiegato dal padre per alcuni generazioni. Puoi vedere che tutto qui è rilassato da men. Master Mariano, solo gli strumenti per il lavoro, tipo pincel, scissor, e l'errope. Non è un po' di più, è un po' di più. Questo è un po' di più, e questo è un po' di più. È un po' di più. È un po' di più. Puoi vedere che il colore della macchina è cambiata perché il grado è spiegato. Ok. Ok. Il nostro lavoro è molto buono. È un po' di più. È un po' di più. Grazie a tutti! Il giro è molto buono. È un po' di più. Garrett Sideme, è un po' di più. Elle è micro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.